Buonasera a tutti, grazie di essere venuti così numerosi a questa serata. Abbiamo appunto il piacere di avere Hubert Messner qui con noi. Affronteremo una commistione un po' particolare, quella tra medicina e montagna, che insomma nel corso della storia si è connotato in maniera particolare. Appunto pensando un po' a come iniziare questo incontro, la memoria mi è subito andata sulla prima impresa che consideriamo propriamente alpinistica, che è la scalata del Monte Bianco, che è stata effettivamente compiuta grazie a un medico che era Michel Gabriel Paccar, che insieme al Montanaro Balmà ha scalato per primo il Monte Bianco e grazie a una serie di ricerche che sono state anche fatte qui a Torino negli ultimi anni si è dimostrato che effettivamente la prima ascensione del Monte Bianco è stata consentita grazie all'impegno, allo sforzo del medico, non tanto del Montanaro ma del medico, perché lui era spinto da un motivo scientifico per raggiungere la cima di questa montagna. Voleva effettuare delle misurazioni sulla pressione barometrica della cima del Monte Bianco e quindi mi sembra un modo per iniziare in maniera positiva questo incontro con Hubert Messner che invece è un neonatologo, quindi non ha direttamente nessun legame scientifico con la montagna, salvo il fatto di essere un montanaro perché è nato e cresciuto in montagna, in Val di Funes, saprete bene che è il fratello di Reinhold Messner ed è un neonatologo, un neonatologo che ha in qualche modo avviato la terapia intensiva neonatologica dell'ospedale di Bolzano che è diventato un punto di riferimento a livello internazionale nel campo insomma e ha scritto questo bel libro in cui in maniera autobiografica racconta un po' il rapporto, il legame che si è creato tra la sua vita professionale e in qualche modo la passione per la montagna e per l'avventura e di come questi aspetti che seppur non collegati direttamente si sono in qualche modo influenzati e come l'avventura in qualche modo gli ha dato qualcosa da un punto di vista professionale e di come la professione dall'altro lato gli ha dato un approccio diverso verso appunto ancora la montagna e l'avventura. Per cui diciamo iniziamo subito direi la chiacchierata perché ovviamente siamo qui per ascoltare soprattutto te e quindi appunto diciamo il primo aspetto che emerge dalla lettura del libro che mi ha colpito è un po' quella che è stata la tua formazione e di come in qualche modo la montagna e comunque la tua famiglia che abitava in montagna ha un po' plasmato il tuo modo di essere, ha un po' anche scolpito il tuo carattere che in gioventù si è rivelato anche essere un carattere per certi aspetti non facile soprattutto quando sei sceso in natura in pianura perché l'ambiente anche duro però molto libero della montagna non si adattava così bene alla vita di pianura no? No questo è verissimo perché noi noi da piccoli eravamo abituati di stare fuori di stare proprio sotto queste montagne non so chi conosce Val di Funes una bellissima valle con quelle montagne dietro che chiudono questa valle era vivere come un paradiso perché non usciva niente da questa valle rimaneva tutto nelle quattro mura di ogni casa però noi eravamo lì veramente una libertà illimitata e i nostri genitori quello perché tu hai detto plasmato erano i genitori più che altro la madre che ci ha lasciato andare che aveva una fiducia immensa in noi un ottimismo non indifferente non sapevo neanche cosa facevamo perché noi eravamo su in montagna cosa si fa in montagna si comincia a scalare anche se piccoli ti portavano dietro i grandi e lì era il fatto che noi essendo stati nove fratelli più che altro nove in tutto con una sorella otto fratelli una sorella ci hanno portato dietro i primi grandi poi i più piccoli io poi ho portato dietro i più piccoli e abbiamo imparato sin dall'inizio dovendo stare da soli sulla marga dovevamo una casetta tutto l'estate abbiamo imparato di essere responsabile per qualcosa di aver fiducia in te stesso perché chiaramente portando dietro i piccoli o i grandi piccoli e di aver fiducia anche per l'altro questo mi ha plasmato però quello che tu hai accenato anche simone questo che poi se tu poi da questa valle devi uscire all'inizio ti sembra un paradiso questa valle poi comincia a scalare le montagne da piccolo per superare un pochettino le paure le ansie poi comincia a vedere da questa montagna che fuori c'è tantissimo sono altre valli sono altre montagne e poi prima o poi per fare le scuole devi uscire da questa valle e poi veramente il difficile era per noi di entrare in queste strutture dove libertà non ce n'era più era tutto regolato dal primo all'ultimo giorno effettivamente avevo difficoltà di accettare queste cose all'inizio tra l'altro poi è una è una bella storia perché hubert ha avuto a scuola insomma qualche problemino i miei figli mi dicono sempre perché conosci così tanta gente io li dico sempre perché ho frequentato troppe scuole diverse tra l'altro con un papà che era insegnante maestro e anche direttore della della scuola per cui lui come viveva queste questa tua ribellione all'istituzione scolastica lui lui come la viveva viveva in senso che una volta quando ho dovuto lasciare un istituto poi mi ha cercato un istituto ancora più severo quando ho dovuto lasciare anche quello un altro istituto non mi prendeva più sembrava finita la mia carriera scolastica e lì poi chiaramente i miei fratelli erano più anziani avevano certe conoscenze e sono riuscito a finire la scuola sì questo però secondo me insegna che c'è un futuro per tutti perché poi quello che in adolescenza era considerato un ribelle poi è diventato primario dell'ospedale di Bolzano ribelle non si può dire ribelle mi dicono sempre sei stato un ribelle non tanto io solo ho cercato di vivere come pensavo di vivere la mia vita di prendermi qualche libertà in questa struttura che anche tutto il tempo libero è strutturato che per me è una cosa non sensata però è uno sistema autoritario che oggi giorno nessuno conosce io parlo degli anni 60 qualcuno sa come era la scuola negli anni 60 è un sistema autoritario dove non riuscivo a sottomettermi a questo sistema di questo è il fatto e però un altro aspetto che secondo me è molto importante che in qualche modo la montagna insegna è questa grande libertà ma allo stesso tempo i limiti che da un punto di vista professionale nel tuo ambito sono molto importanti cioè nella nella carriera di un neonatologo ci sono dei limiti che stabiliscono e qui c'è il titolo anche del libro il filo del crinale che stabiliscono dove la vita dove la morte e dove si può cercare di di dare la vita a un neonato e dove invece occorre fermarsi sì questo è la stessa cosa nei montagni è la stessa cosa tu cerchi sempre di spostare il limite no da piccolo fa il primo grado poi il secondo grado cerchi di spostare il limite dove spostando il limite però c'è sempre di base questa paura che per me però è importantissima la mia paura è un'emozione per me positiva perché se non tu hai questa questa emozione tu sposti i limiti e spostando questi limiti probabilmente non riesci a sopravvivere certamente in montagna nel teologico è la stessa cosa dove dagli anni fine settanta quando ho cominciato a lavorare abbiamo cercato di spostare i limiti però anche sempre nella è sempre essere coscienti fin dove si può arrivare se da 28 settimane che era lì il limite si andava a 26 già ci cercava di fermare anche per la paura che poi facevamo più danno che bene e poi però adesso chiaramente siamo andati ai limiti di 23-22 settimane dove io ho certe criticità specialmente con 22 settimane perché riusciamo oggi con la tecnologia con l'esperienza con le informazioni con i network che abbiamo anche farli sopravvivere però sappiamo anche se sopravvivono una grossa parte di questi e anche probabilmente dei handicap non i differenti nella loro vita e questo è il limite però è difficile andare oltre però c'è chi spinge ancora di più a mio avviso perché non ha paura non ha questa emozione positiva della paura e questo mi fa pensare a un altro aspetto che in qualche modo la montagna insegna e cioè il tema dell'assunzione del rischio e che è un elemento che appare molto bene quando racconti della spedizione del 2000 al Nanga Parbat con tuo fratello Reinhold erano tornati sotto la parete di Yamir con Reinhold per tentare di salire sul Nanga Parbat avevate preparato la spedizione molto bene tu fisicamente ti sentivi anche molto bene la fase di acclimatamento era andata molto bene ma a un certo punto hai deciso che non avresti tentato che forse non eri pronto ad assumerti quel tipo di rischio e che in qualche modo avevi individuato quello che per te era il limite forse non era tanto il rischio Simone non era tanto il rischio io veramente eri preparato bene fisicamente ho anche qualche anno o meno di Reinhold c'era con noi Heisenl non so se conosci il Hans-Peter Heisenl uno delle guide più preparato secondo me non era tanto il rischio diciamo avendo una preparazione abbiamo pianificato bene preparato bene questa cosa questa espedizione per la parete nord del Nanga Barbat e quando veramente dopo aver già preparato gran parte di questa parete nord io non mi sentivo più di fare perché avevo l'impressione perché non era più così importante per me chiaramente c'era dietro nell'anticamera del cervello la morte di mio fratello Günther che abbiamo trovato un osso proprio al piede del montagna che non sapevamo a quel tempo lì che era l'osso veramente del nostro fratello che poi abbiamo visto solo più tardi con tutti gli studi genetici e anche questa era una voce sottofondo che mi diceva di non fare questa cosa qua anche per il fatto che era lui dietro l'anticamera del cervello che quella montagna è chiaramente un destino per la nostra famiglia e poi anche perché pensavo che se non ritorno sarebbe stato un altro veramente grosso trauma per mio fratello Reino che già vive ancora con quell'altro trauma e poi però me stesso sono detto che per non essere così importante però mi sono anche accorto che non avevo la forza mentale di fare questa cosa qua e lì devo avere il coraggio di tornare stessa cosa torniamo in eatologia anche lì devo avere il coraggio ogni tanto di rivedere tutto quello che stai facendo e anche di fare un passo indietro ecco appunto fare un passo indietro nell'ambito della neonatologia immagino sia decidere di non continuare le terapie su un bambino un neonato prematuro chiaramente lì parliamo di neonati al limite della capacità di sopravvivenza di questi bambini sotto 750 grammi sotto 500 grammi addirittura siamo scesi anche a 400-350 grammi dove sono tante implicazioni etiche chiaramente che devi discutere con non solo i genitori devi discutere anche con tutti i collaboratori e collaboratori che ho sempre fatto dove il principio era sempre questo quella tecnologia che abbiamo e l'esperienza come dicevo prima che abbiamo oggigiorno abbiamo cercato di dare a tutti i bambini la possibilità di sopravvivere cominciando subito una terapia massima che di per sé il mondo cattolico lo chiede anche il mondo cattolico dice che tu devi fare tutto per far sopravvivere qualcuno però per il mondo cattolico diventa difficile se poi vedi che quel bambino lì non ha capacità di sopravvivere proprio perché siamo al limite con tutte le sue complicazioni devi avere anche il coraggio come dicevi giustamente di fare un passo indietro e cambiare così la tua meta terapeutica in quel senso cambi tutto dici non vado verso la sopravvivenza lo porto verso una cura palliativa chiaramente sempre insieme con i genitori e questo oggi giorno è abbastanza così siamo tutti d'accordo su questo anche se il mondo cattolico fa un po' fatica a questo perché per lui la vita è sacra per me invece chiaramente la vita è sacra per me però gioca un grosso ruolo anche nella qualità della vita di questi piccoli esseri che secondo me è una cosa importantissima pensare anche a questo come lo fa il mondo laico anglosassone diciamo così infatti è proprio su questo tema che riflettevo su quella che è l'assunzione del rischio quando si è in una cordata e si deve decidere se affrontare la parete affrontare quel passaggio lì si analizza anche in qualche modo quello che è il rischio a cui si va incontro e allo stesso modo mi chiedevo se quello che si instaura con i genitori di un di un neonato prematuro può essere assimilabile al discorso dell'accordata cioè al cercare di ragionare insieme su quella che è la cosa migliore da fare in una situazione oggettivamente molto critica è proprio così l'accordata in montagna è l'accordata che tu hai con i genitori in reparto questo è importantissimo cioè non è una volta come tempo indietro i genitori erano fuori dai nostri reparti adesso i genitori vivono 24 ore nel nostro reparti per cui è un accordata l'accordata vuol dire tu l'hai già accennato fiducia e tu devi instaurare come tu con il tuo compagno in montagna devi instaurare una fiducia anche fiducia reciproca la stessa cosa in interopio intensivo del Natale per cui tu puoi discutere anche di fare ogni tanto il passo indietro o di dare un'altra direzione puoi fare in montagna puoi fare anche in neotologia stessa cosa e tornando magari a qualche esperienza che nel libro è raccontata anche in maniera un po' più anche leggera tu sei medico ma sei anche stato in diverso occasioni paziente perché hai subito tutta una serie di incidenti poi tal'altro hai vissuto anche tu da parte di tua moglie che qua insieme a noi l'esperienza di un parto prematuro come ha cambiato il tuo approccio da medico il fatto di trovarti nella posizione del paziente se torniamo al primo punto che hai detto quando io ero paziente perché ho avuto diversi incidenti anche un incidente grave dove però ancora questo anche nel 79 dove era in questo ospedale che è tutta una struttura diversa dove c'era il professore che diceva questo da fare cosa hai detto forse questo non avevi il paziente non aveva voce in capitolo stavi lì veniva la mattina si dettava cosa c'era da fare e finito lì non c'era questo da discutere con il medico più che altro di avere un rapporto aperto quello io ho cambiato sicuramente lì ho imparato che così non si può fare medicina però è una brava gente che sia chiaro però ho cercato di fare medicina dopo proprio con i genitori sempre presenti a stesso livello invece quando io ho vissuto il fatto di avere il nostro primo figlio che è un grosso prematuro che veramente mi ha sfidato non solo dal punto di vista professionale anche dal punto di vista emotivo come padre diciamo era una dicotamia da essere medico e padre da un'altra parte con la paura di perderlo che proprio avevo la paura di perderlo avendo portato avanti tantissimi altri bambini proprio lui pensavo di perderlo e lì ho imparato cosa sente perché poi sei medico ho lavorato con quello ho lavorato ovviamente concentrato in modo razionale da medico non pensando che tuo figlio poi certamente quando lui si è ripreso era tuo figlio poi di nuovo è peggiorato e lì ero proprio con i genitori insicuro le paure di perderlo chiaramente cosa dire poi a mia moglie che pensavo che a me non mi muore nessun bambino figurarsi è il nostro però anche questo sì sei lì abbastanza solo poi anche la solitudine che senti davanti a questa cosa qua per cui ho imparato veramente cosa sentono questi genitori davanti ai figli quando devi dirgli che non va bene no e questo sicuramente ho imparato e ho avuto poi forse un po' rafforzato l'aeroporto che con i genitori anche per il futuro sì perché tra l'altro racconti che l'energia positiva che i genitori possono trasmettere a questo neonato anche prematuro a questo esserino piccolissimo è in realtà fondamentale nella nella sua capacità di superare questo momento critico sì la stessa cosa ritorniamo di nuovo le montagne anche lì è importante no la stessa cosa il genitore è presente in reparto che ha questo approccio positivo verso questo figlio che aumentano tantissime energie se il genitore non si fida del suo figlio o non ha fiducia in sua figlia si vede questi bambini si ritirano sotto virgolette per cui è importantissimo e i genitori chiaramente li danno tanto specialmente vediamo anche se facciamo la cosiddetta marsupioterapia o kangaroo care quando i piccoli bambini una volta abbiamo messo solo lì stabili poi abbiamo cominciato a mettere meno stabili poi anche quelli ventilati anche se avevano solo pochi grammi quando medi sul petto della mamma a pelle a pelle contatto pelle a pelle quelli lì vedi la saturazione migliora la frequenza che migliora loro diventano più tranquilli e così via per cui il genitore è la incubatrice migliore chiaramente se rimanesse in utero però anche se fuori con questo cura pelle a pelle chiaramente i bambini migliorano e lo vedi nettamente come vanno come si riprendono tra l'altro è stata un'evoluzione incredibile dai tempi in cui i genitori venivano tenuti al di là di un vetro quando poi sono stati in quale fase come avete come siete riusciti a introdurre questa novità in un reparto ospedaliero che comunque ha tutta una serie di regole non era facile farlo capire chiaramente io ero via parecchio anche all'estero ho fatto diverse esperienze all'estero in Canada specialmente dove ho imparato queste cose dove si dice arriva sempre nel reparto prematuri che chiaramente hanno sistemi immunologico fragile non si può entrare perché si infettano e così via e così via poi ho cominciato a capire negli anni fine 80 che non erano tante le persone che entravano quanti germi che avevamo dentro no? era meglio che il contadino con le scarpe veramente sporche andava in reparto perché portava dei germi buoni e non quelli cattivi far questo capire alle direzioni sanitarie non era facile io a un certo momento personalmente mi sono sempre detto i genitori andavanti queste finestre queste cose corredoie di vetro sembrava sempre di stare in una casa di scimmie e ho detto questo aboliamo subito poi abbiamo cominciato ad aprire anche per l'infermiere non era facile no? aprire inizio era nei pomeriggi poi abbiamo cominciato ad aprire anche la sera poi pian pianino siamo riusciti a farle aprire non tanto la mattina perché di concentra il lavoro poi tutti sui bambini poi però per 24 ore però un passaggio non facile no? però per tutti alla fine della storia è un passaggio importantissimo e facciamo un po' un passo indietro nel libro racconti di due in qualche modo due morti che probabilmente ti hanno anche portato a intraprendere questa carriera nel cercare di salvare vite che sono state una la morte di Kennedy che tra l'altro una notizia di questo genere tu eri ancora bambino che ti colpisce in questo modo la notizia della morte di Kennedy che arriva in Val di Funes tramite tuo papà che in qualche modo era suo ammiratore ti colpisce poi anni dopo quando andrai negli Stati Uniti scoprirai che lui effettivamente aveva avuto aveva perso un bambino prematuro questo ho capito dopo l'importanza di Kennedy per la mia professione Kennedy chiaramente in paese quando è morto Kennedy novembre 63 abbiamo dovuto come ragazzi andare a tutto in chiesa no? chi capiva lì che io avevo dieci anni che era il Kennedy però chiaramente tra l'altro non c'erano i social non c'era internet però questa notizia questa notizia sicuramente è arrivata perché Kennedy era una persona importante era la prima persona presidente americano che aveva sì oggi giorno si parla di social media per lui aveva tutte le media dietro di sé era giovane una moglie giovane figli giovani e ho conosciuto il Kennedy e poi l'ho riconosciuto diciamo sono tornato a capire il Kennedy nuovo nel nel 90 in Canada dove ho capito l'importanza di Kennedy per la neotologia di per sé e di per sé lui è un padre della neotologia moderna nel senso che lui ha perso nel agosto 63 sua moglie ha avuto un prematuro di 34 settimane che oggi giorno non vede neanche una terapia intensiva va al nido non sicuramente si è preparato bene o non vede una terapia intensiva questo bambino è nato nel Massachusetts l'ho portato poi a Boston più che altro un medico di Boston che è una clinica pediatrica già renomata è andato in Massachusetts ha detto questo bambino devono portare a Boston a Boston poi hanno cercato di trattarlo come hanno trattato i cardiopatici con altissime concentrazioni di ossigeno e hanno contentato Toronto perché Toronto è una professoressa greca che aveva già esperienza con bambini ventilati per la poliomiolite e lei aveva cominciato Toronto a ventilare nel 63 già neonati però non potevano spostare i macchine cose i bambini hanno morto dopo tre giorni e questo ha fatto il giro del mondo per cui dicevo prima tutte le media hanno raccontato di questa morte di questo piccolo e Kennedy ha investito poi veramente tantissimi soldi quei pochi mesi che sono rimasti di vivere a fare formazione per i pediatri per fare poi neotologia comprato investito tanto nella innovazione di apparecchiature in quel senso veramente è diventato il padre della neotologia moderna e un'altra esperienza drammatica che ha segnato la tua gioventù ovviamente è stata la morte di Günther tu all'epoca quando eri in una malga in Svizzera a lavorare sei stato raggiunto da questa notizia che ha letteralmente poi sconvolto anche la vita della vostra famiglia per un po' di anni ed è una cosa che appunto per chi non lo sapesse i suoi fratelli Reinhold e Günther erano in spedizione al Nanga Parbat dopo aver raggiunto la cima durante una discesa rocambolesca sull'altro versante versante nord dove poi siete tornati nel 2000 Reinhold si avvantaggia un po' la discesa e Günther a un certo punto non compare più evidentemente sepolto da una valanga e l'aspetto che insomma io e non solo io abbiamo trovato che ha segnato un po' anche la storia degli anni a venire e questo senso di colpa con cui tuo fratello Reinhold torna lui subito quando si rende conto che suo fratello è scomparso subito pensa a come potrà raccontare questa cosa ai genitori e questo senso di colpa poi diventa poi un'accusa che tutto il mondo gli rivolge cioè quello di non essere riuscito a salvare suo fratello minore l'hai anche raccontato prima che nella vita di famiglia i fratelli più grandi avevano la responsabilità verso i più piccoli però oggettivamente in una situazione in cui non c'era veramente nulla da fare sì per noi è una cosa un po' difficile a parte che pochi di noi potevano immaginarsi diciamo conoscevamo i Dolomiti un po' così chiaramente il bianco il monte bianco e così via però non la grandezza dell'Himalaya difficoltà di questi non tanto la pericolosità di queste grosse montagne e poi chiaramente eravamo tutti giovani nessuno pensava chi pensa da giovani di morire o di poter morire nessuno di noi lo pensa siamo astuti di essere Siegfried se pensiamo a quella storia lì e lui ha scritto solo che il fratello non torna più che altro il mio telegramma che ho avuto io solo il fratello Guinton non torna cosa vuol dire non torna non era concepibile per noi come dicevi giustamente per noi il grande tornava col piccolo la sera a casa non sarebbe tornato a casa senza e poi a parte che nessuno di voi aveva idea di questa montagna di queste veramente di queste valanghe che anche sul Diamir se stai sotto vengono giù giorno e notte queste valanghe poi la cosa più difficile chiaramente c'è un rimprovero specialmente del nostro padre anche noi fratelli c'è un certo rimprovero anche mai espresso chiaramente verbalmente però il rimprovero c'era qua sicuramente ha portato una grossa ferita in questa famiglia il fatto più difficile era perché lui raccontava la storia lui diceva di averlo perso al piede della montagna però le mass media con tutte le polemiche c'erano dicevano no che l'avevo lasciato sulla cima che l'avevo lasciato non so 8000 metri per cui anche questo per noi la prima volta eravamo confrontati anche con le diverse media che raccontava naturalmente il contrario per cui per tanti anni chiaramente lui si è portato dietro questo trauma questa colpa finché abbiamo trovato come dicevo prima nel 2000 quel primo osso poi nel 2003 abbiamo trovato la scarpa e poi un anno dopo tante altre ossa dove poi lui ha confermato era qualche chilometro distante dal piede delle montagne per cui chiaramente era giusto quello che lui diceva per tutta la sua vita che non è mai stato riduto che Quinto l'ha perso proprio sotto io so dove l'ha perso con una slavina e lui l'ha cercato per due giorni perdendo quasi tutti le dita del suo piede ha avuto veramente solo grosso fortuna di aver sopravvissuto perché l'hanno trovato lì i contadini più che altro sulle Margheri e in qualche modo questa questa necessità di dare una colpa di trovare un colpevole emerge anche nel tuo lavoro e viene anche appunto raccontato molto bene in un capitolo di questa coppia che nel momento in cui si rende conto che il loro neonato non si può salvare ha necessità di dare la colpa a qualcuno e insomma come sei riuscito ad affrontare questa situazione in cui poi il colpevole in qualche modo eri tu e sei comunque riuscito a poi aggirare la cosa colpa è sempre colpa è una grosso parola chiaramente se qualcosa va storta ancora oggi di più che prima si c'è con colpevole io a questi genitori dicevo sempre diciamo intanto pensiamo a questo bambino se voi avete solo la colpa davanti non avete più in visione il vostro figlio e con tutte le energie negative che si sviluppano in quel momento lì perché sono tante energie negative vanno solta a scapito del vostro figlio perché se il figlio vede che non avete né fiducia nel medico né fiducia in lui chiaramente questo figlio non sopravviverà mai e i genitori chiaramente hanno tempo di capire queste cose qua perché l'ho sempre detto se sono sono stato fatto veramente dei sbagli e si discute dei sbagli io ho sempre aperto ho la cultura di discutere anche il sbaglio in una terapia intensiva in una terapia intensiva e si cammina spesso sul filo del crinale chiaramente però la cultura dell'errore è una cosa importantissima per me in medicina la cultura dell'errore è una cosa anche che è da analizzare da discutere da imparare però io dicevo sempre ai genitori di queste cose ne parliamo di sicuro però intanto cerchiamo di portare avanti questo figlio però con tutte le energie negative che si instaurano non andrà da nessuna parte i genitori devono parlarti poi e tu devi averle pazienti e parlarle non solo una volta anche due volte sempre le stesse cose anche tre volte poi i genitori prima poi capiscono e poi se il bambino ti muore o se il bambino poi ha un grosso handicap devi discutere se sono stati fatti errori devi discutere anche sugli errori e ti posso dire una cosa se tu in modo trasparente ti scuti dei tuoi errori perché si può fare un errore come si fa nel montagna si deve solo imparare dagli errori se tu ti scuti trasparente questo con i genitori o col paziente non ho mai avuto nessun problema alla fine della storia mai infatti nel libro racconta anche del fatto che poi chiedeva ai genitori un incontro un po' di tempo dopo insomma dopo la perdita del neonato e nella maggior parte dei casi si presentavano per avere ancora un ultimo confronto un confronto aperto su quello che non era sempre un confronto lì di solito quella era una cosa veramente interessante anche questo non era tanto un confronto quando si è discusso tutte altre cose si è discusso cose che io non sarei mai immaginato cose anche della difficoltà nella coppia dopo la morte di questo figlio o anche le colpe loro chi ha più colpa chi ha meno colpe e così via cose interessantissime al mio io ho operato tantissimo questi discorsi e chi è tornato dopo un mese chi è tornato anche dopo un anno a discutere ancora questo chiaramente si è fatto sempre un riassunto un po' di questa storia del bambino però poi quello che è venuto fuori come hanno superato questo loro trauma o come non l'hanno superato questo loro trauma perché sono state poi coppie che sono lasciate o coppie che veramente avevano difficoltà non indifferenti e questo però i discorsi erano sempre utili anche per me e invece insomma tornando alla tua redazione con tuo fratello Reinold dopo insomma questo allontanamento che si è creato per la perdita di Günther poi siete riusciti a ricreare una redazione ricostruire una redazione che ha avuto anche degli esiti molto positivi perché poi insieme hanno compiuto la traversata la prima traversata in totale autonomia della Groenlandia da nord a sud quindi lungo il lato più lungo senza supporti esterni senza cani in totale autonomia una spedizione che a parte qualche piccola difficoltà iniziale dovuta al maltempo poi è andata liscia perfetta proprio io ho cominciato più che altro quando lui ha avuto l'amputazione di tutte queste dita del piede doveva tornare a allenarsi chiaramente si è reso conto che per arrampicare nel senso vero aveva grossa difficoltà però doveva tornarsi a allenarsi e lì io facevo tantissimo sport quei tempi ho cominciato a allenarsi più che altro a tirarlo nelle corse e così via e lì chiaramente ci siamo avvicinati per cui le prime spedizioni ancora negli anni 80 l'ho seguito come medico è una delle ultime spedizioni alla parete sud dell'Otze quando sono tornati a casa e lui ha proposto di fare una cosa insieme e lì ha detto caro ragazzo io non ho tempo di fare queste cose qua però ha detto ci penso e ci siamo accordati di fare da lì dal 90 in poi abbiamo fatto diverse spedizioni poi insieme sempre di solito noi due da solo è un'esperienza ovviamente bella in quel senso perché veramente siamo tornati ad essere veramente fratelli di nuovo e ha avuto anche un senso che anche i nostri fratelli siamo di nuovo congiunti specialmente quando sono tornati tutti insieme poi abbiamo deciso noi due insieme di portarli tutti a Nanga Barbat le nostre famiglie per poter dare l'addio definitivo a questo nostro fratello che interessa e anche vostra mamma giusto avete portato la mamma è venuta quando dopo le lozze che è l'ultima dell'8000 la mamma è venuta in Kathmandu abbiamo affittato un aereo e abbiamo sovolato tutte queste catene himalayana che lei veramente io ce l'ho ancora davanti era lì alla finestra di questo aereo con una serenità che effettivamente doveva vedere dove i suoi figli sono stati tanto tempo nella loro vita per tornare appunto a questa a questo incontro tra medicina e avventura mi ha colpito molto un aspetto che racconti della pediatria della neonatologia in generale e cioè che il fatto che un neonato un bambino con dei problemi con delle patologie va prima di tutto osservato mentre la medicina sta correndo molto il rischio di diventare riduzionista cioè di concentrarsi sul dato anomalo dell'esame piuttosto che vedere l'insieme delle condizioni del paziente e in qualche modo ci ritrovo poi anche ne parliamo dopo ma ci ritrovo anche un aspetto legato proprio alla tua vita in generale cioè questa passione molto complessiva verso quello che ti circonda non solo nell'ambito della montagna insomma io penso medicina questo è importantissimo abbiamo disimparato di osservare i nostri pazienti se tu riesci a osservare questo è imparato da piccolo sotto virgolette di osservare le cose io ho sempre stato un osservatore e più che altro uno dei miei aiuti mi ha mai chiesto come sono i globuli bianchi come questo come quest'altro e mi ha fatto veramente impressione perché cosa fai ti vuoi specialmente come giovane medico vuoi ascoltare il polmone il cuore palpare la pancia l'adoma e così via lui mi ha sempre detto non voglio questo da te tu devi capire cosa ha questo figlio guarda in faccia guarda come si muove cosa deduci da queste cose qua e io ho imparato veramente tantissimo da questo l'ho imparato anche all'estero queste cose qua e io ho sempre veramente si dice contestato si è contestato quando i miei medici venivano la mattina e ho detto ho fatto questo esame ho fatto quest'altro esame i globuli bianchi non so quanto la PCR vuol dire i seni infettivi hanno tanti ha detto non mi interessa un bel niente com'era quel bambino stava male non stava male e ho cercato di insegnare anche questo ai giovani però non è facile perché lì devi avere il tempo e questo è il problema del medico tu devi avere il tempo devi parlarli anche il neonato puoi parlarli vedi come ti risponde chiaramente un paziente adulto un bambino grande devi anche parlare non devi parlare sempre tramite il genitore questi vogliono essere presi sul serio il bambino anche se è 7-8 anni e lì capisci tutto ti risparmi un casino di esami vuol dire risparmiamo tanti di questi soldi però devi avere il tempo dell'osservazione questo sì e devi star lì a volte insomma chi ha bambini piccoli a volte hanno 39 di febbre saltano come grigli a volte invece sembrano moribondi non si capisce niente e questo è il fatto io dico sempre se il bambino salta con 39 lascialo saltare o se il bambino con 39 dà qualcosa contro la febbre e dopo è normale non è niente di grave non voglio raccontare le storie che ogni tanto mio signore mi ha fatto vabbè qua non mettiamo il dito tra moglie e marito e da questo punto di vista quello che è anche interessante è che nella famosa spedizione in Groenlandia in qualche modo tu e Reinhold avevate due competenze molto diverse la tua era quella per il windsurf perché vi siete portati queste vele che vi aiutavano a sfruttare la forza del vento e quindi tu avevi delle competenze più acquatiche che ti sono tornate utili sul ghiaccio della Groenlandia e quindi qua parliamo proprio di olismo nella sua massima espressione insomma i due opposti che sì ma no però lui io ho dovuto insegnarlo chiaramente non siamo partiti per la Groenlandia senza lui ha dovuto impararlo e l'abbiamo fatto sul lago di Resia non erano le vele di oggigiorno erano i primi kite veramente i primi kite pesantissimi difficili da gestire però l'ho insegnato sul lago di Resia è diventato abbastanza bravo a farlo sì effettivamente anche se intanto aveva qualche caduta dove avevo paura della sua vita però l'imperato sì però lui chiaramente ha fatto tutte altre cose io ho gestito chiaramente tutto l'alimentazione le cose tecniche anche materiale lui invece ha fatto tutto il suo tutto un altro lavoro come logistica e tutte queste cose qua però questo è un bene è un bene perché ognuno aveva il suo compito chiaro e anche lì deve avere fiducia poi l'uno nell'altro e tu dove hai trovato il tempo per fare tutte queste cose addirittura anche specializzarti nel nel kitesurf prima ancora che esistessi in qualche modo perché ero curioso basta ero curioso e ho cominciato un po' tutto il tempo l'ho trovato ero tanto in ospedale questo devo dire però il tempo di muovermi di fare sport quello ho sempre trovato questo secondo me era sempre stato una cosa per me anche importante che la mattina sapevo cosa dovevo fare tutto durante il giorno però mi sono sempre tagliato una fetta per fare un po' di sport e invece appunto tornando alla vostra famiglia siete otto fratelli una sorella in qualche modo tutti quanti hanno hanno perseguito una loro carriera hanno occupato dei ruoli di rilievo vabbè Reinhold lo conosciamo tutti Günther stava per diventare direttore di banca quando è scomparso Siegfried era presidente delle guide poi un altro psicologo anche magari per chi non ha figli cosa no per chi ha figli che magari vuole rubare qualche consiglio cosa cosa ha creato questa questa situazione ma io penso che tutti sì da piccoli abbiamo deciso la nostra vita questo è il fatto abbiamo deciso la nostra vita cosa fa nella nostra vita anche per John Stegentori ci hanno lasciato fare questo è il fatto no e avremmo imparato questa cosa da piccoli già specialmente in montagna anche come posso dire perché c'è una parola tedesca che mi viene difficilmente in italiano tu prima o poi vieni a scoprire la forza di te stesso in quel senso voglio dire sarebbe la self-exam che non è proprio giusto quello che voglio dire però quelli impari da piccolo e questo anche da diversi studi oggi giorno che si possono fare dal punto di vista psicologico lo impari da piccolo questa che impari che hai una forza d'accordo e questo vi ho imparato e se tu hai questa forza e hai questo desiderio questa volontà di gestire la tua vita riesci ad andare avanti e chiaramente devi porti dalle obiettive gli obiettivi nostri non erano nella valle nostra perché papà era maestro non avevamo non avevamo contadini che potevamo stare a casa e la mamma che l'ha capito che questi figli devono andarsene via siamo andati via sempre da da piccoli chiaramente da questa valle però con chiari obiettivi che non è che si deve sempre raggiungere però con gli obiettivi che tutti noi abbiamo cercato di raggiungere abbiamo da parte raggiunti e tra l'altro c'è un ritratto anche molto bello di tuo papà che insomma era maestro direttore della scuola della valle una figura anche autoritaria che poi si è trovato otto figli che hanno vissuto la gioventù l'adolescenza a cavallo del 68 della contestazione e che in qualche modo poi in seguito è stato anche capace di imparare qualcosa da voi e di cambiare certe sue posizioni questo è un segno di grandissima apertura non era facile perché lui chiaramente aveva le sue idee specialmente non era abituato di discutere con noi di politica chiaramente in quegli anni che dicevi però abbiamo fatto capire che c'è qualcosa altro anche che non è solo diciamo la potenza che aveva chiaramente il maestro il paraco e il sindaco no? quello che gestiva in un paese e noi abbiamo cercato di farle capire che si può anche fare in modo diverso politica all'inizio non voleva sentirne poi pian pianino ha sentito ha capito effettivamente è uscito dal partito e ha fatto un suo un suo non partito più che altro un suo movimento che poi ha preso in mano tutto il comune sì col nostro aiuto che sia chiaro però nessuno di noi si è candidato forse magari ne avrebbe fatto meno però gliel'avete imposto quell'aiuto lì e quindi l'ha dovuto subire però ha saputo interpretarlo no ha fatto un movimento che chiaramente in quei tempi lì di cui si discute tanto oggi ha cercato di conservare questa valle perché cosa è successo nella vicina Val Gardena che tutti sappiamo no? cosa è successo in Val Gardena specialmente dagli anni 70 dall'anno 70 72 erano i mondiali 70 credo i 70 e si è visto cosa è successo in Val Gardena con tutto quello che è stato costruito la valle è stata distrutta e lui ha cercato di conservare questa valle facendo un turismo diverso ha cominciato lui stesso a tirare le prime cose per fare fondo abbiamo fatto un campo di ghiaccio un campo di calcio per i ragazzi in paese che non esistevano in paese abbiamo cercato di mantenere la valle e non farselo prendere dai gardinesi che volevano sempre farlo vogliono farlo ancora però adesso è diventato un po' più difficile mi rivolgo a voi se ci sono delle domande se qualcuno vuole intervenire approfittare della della presenza di Hubert se no vado avanti io io intanto vado avanti poi se qualcuno vuole anche interrompere noi siamo a disposizione e un altro elemento molto significativo nel tuo rapporto con tuo fratello Reinhold è che in due situazioni molto drammatiche in Groenlandia e poi nella spedizione successiva in cui avete tentato di attraversare il polo nord dalla Siberia al Canada mentre la spedizione in Groenlandia appunto nonostante qualche fisiologico intoppo legato all'ambiente non proprio ospitale comunque è andata abbastanza bene invece quella al polo nord si è conclusa dopo appena cinque giorni dalla partenza di cui tre passati a cercare di liberarvi di un orso polare che vi inseguiva e poi gli altri a fuggire da questa tempesta di pack che rischiava di sotterrarvi e che ti ha poi fatto cadere in acqua a mollo nell'oceano artico a meno 45 gradi centigradi di temperatura e comunque in queste due situazioni drammatiche appunto Reinhold non ti chiamava con il tuo nome Hubert ma ti chiamava Günther lui ha vissuto sicuramente la situazione estrema che ha avuto al pene della parete di Amia e lì mi sono reso conto all'inizio in Finlandia pensavo vabbè anch'io di tanto sbaglio i nomi dei miei figli chiamano uno e l'altro diversamente però già lì pensavo un attimo perché non mi chiama col mio nome però in Polo Nord effettivamente lui ha gridato in questa tempesta difficile che qualcuno di voi possa immaginarlo quel pack che si rompe da un minuto all'altro tutto è pack che si muove come un treno di merci dove il pack ci ha rubato una slitta più che altro se l'ha inghiottita il pack abbiamo corso tutta la notte da una lastra più grande all'altra lastra più grande tirandoci dietro la tenda è una slitta io sono creduto in quell'acqua dove effettivamente se fai questo tipo di espedizioni leggi tantissimo io conoscevo tutte le espedizioni di difficoltà di queste espedizioni cade in quest'acqua e pensi vabbè da quest'acqua nessuno è mai uscito però dall'altra parte chiudi anche un pochettino e dici vabbè da qui non esci più dall'altra parte ha detto io so notare perché non dovrei uscire da questa cosa e specialmente quando Reinhold ha visto questa cosa e in questa veramente tempesta terribile lui è urlato con tutte le sue forze il nome di suo fratello del nostro fratello Guentà e lì ho capito che dovevo uscire da quest'acqua con tutte le mie forze perché se no non so se lui sarebbe riuscito a tornare effettivamente con un trauma maggiore ancora che e ho capito che quel fratello è rimasto anche questo non è tanti anni fa è rimasto ancora sempre addosso forse si è mai riuscirà mai a liberarsene e tornando al tuo lavoro perché hai deciso di andare in pensione se sei ancora giovane e soprattutto nell'ambito medico non è così comune di solito si creano un po' delle baronie no io avevo sempre qualcosa contro le baronie no questo è un fatto no io sono andato in pensione da un giorno all'altro io ho sempre rispettato la sensazione di pancia in quel senso avevo alla fine tanti altri compiti in questa sanità altoatesina che mi ha costato tanto tempo avevo meno tempo per i miei piccoli pazienti io che riuscivo sempre a staccare dal lavoro al lavoro fuori più che altro a casa riuscivo non portavo dietro il problema del reparto dormivo sempre bene e lì di colpo i pazienti mi hanno seguito poi anche di notte mi sono svegliato perché li avevo visti ogni giorno perché non avevo più il tempo la mattina li ho visti con i miei colleghi collaboratori però la notte poi ho detto ma cosa sarà successo o cosa non sarà successo poi mi si voleva dare compiti tutt'altri che compiti medici il direttore generale voleva che facessi il direttore sanitario anche se l'avevo detto già giorni prima con il presidente della giunta e l'assessore della sanità ho detto io non lo farò mai in vita mia questa cosa non lo so fare lasciatemi fare il medico il direttore generale mi ha chiamato ho detto che io ho responsabilità che io devo farlo allora mi sono alzato ho detto bene se è così io lascio questa azienda e ho fatto così e sono andato punto e bene penso di aver fatto il giusto più che altro ho sempre detto le sensazioni di pancia ho sempre cercato adesso sembra irrazionale però per me era la sensazione che dovevo andare via sono andato e adesso stai lavorando anche con la Cina no? ho sentito ho lavorato ho lavorato poi con la Cina però questo prima della pandemia con la pandemia questo progetto è un grosso progetto sino germanico finanziato tutto dalla Germania un grossissimo progetto per migliorare le cure neonatali specialmente dal punto di vista ventilatorio specialmente questo è il mio compito e sono stato invitato a collaborare con questa cosa ero gli ultimi anni in Cina diversa volta l'anno esperienza anche bellissima ho imparato anche tante cose lì però con la pandemia poi si interrotte forse si riprendiamo adesso però non più con la Cina però con Camboccia e Vietnam lo stesso progetto e l'idea di scrivere il libro che tra l'altro è stato scritto con Lenz Koppelstetter che è un autore scrittore alto attesino tra l'altro che tu hai seguito perché anche lui ha avuto un bambino prematuro giusto come si è creato questo legame e come è venuta l'idea di scrivere il libro no il Koppelstetter che è il papà di uno dei miei ultimi prematuri dove tipo se non aveva già più questo tempo che aveva anni indietro e lui quando ho visto che sono andato in pensione lui è andato a casa col suo figlio che è andato bene mi ha contattato dicendo che lui vorrebbe scrivere più che altro lui ha detto dovresti scrivere queste queste storie della neotologia e le storie delle tue avventure dovresti dovremmo fare un libro insieme io ho detto non ci penso neanche ho detto intanto volevo avere distanziarmi da tutto quanto e sono andato via e ho detto casomai ci sentiamo dopo sei mesi ci abbiamo dato il lei ancora quei tempi lì e dopo sei mesi effettivamente io via con mia famiglia a fare il surf e il kite un bellissimo posto nel mondo via lontano lui mi ha chiamato scusate e dicendo se avevo ragionato su questo progetto io effettivamente avevo ragionato su questo progetto ho cominciato già a riflettere su cosa si poteva fare e sono tornato e ci siamo visti lui mi ha dato poi chiaramente scrive un libro oggigiorno deve avere un aiuto lui mi ha dato il suo come si chiama il suo ti ricordi tu il nome in italiano? il correttore di boss editor? no 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 l'editor no l'editor no il suo agente il suo agente il suo agente mi ha insegnato come fare i primi capitoli i primi capitoli li ha preso la gente la gente poi li presenta le diverse case editrici ho scritto il capitolo uno sul Naga Barbat ho scritto un capitolo su mio figlio Alex il prematuro il primo capitolo dell'Anna quella bambina che è la prima bambina che mi ero morta io pensavo che con questo sarà tutto fatto ero felice ho fatto la mia cosa lui era contento invece abbiamo avuto poi da diverse case editrici tedesco avevano più che altro volevano averlo poi abbiamo deciso per Heine di darlo a Heine e prima mi dicevi che adesso sta per uscire un secondo sì il libro dicevo prima parlavo con chi con qualcuno il mercato del libro in Germania Austria Svizzera è completamente diverso che il mercato italiano un primo libro questo libro ho avuto grandissimo successo fuori in Germania Austria è arrivata già alla sua quarta edizione mi ha contattato in giugno di nuovo la casa editrice chiedendo se non avevo voglia di fare un secondo ho detto io non mi ripeto non faccio di solito diciamo se è fatto una cosa conclusa è conclusa e faccio altre cose abbiamo discusso a lungo ho detto anche di cosa si potrebbe scrivere insieme con con la casa editrice mi sono convinto poi di farlo ho cominciato a scriverlo che l'ho consegnato in gennaio i primi giorni di gennaio e uscirà qui il 14 di giugno in Germania in Germania però in attesa della traduzione ci dai qualche anticipazione ma è un libro che dovrebbe essere fatto più che altro per i nostri giovani chiaramente io ho lavorato tutta la mia vita con bambini e con giovani è un libro che il titolo in italiano non so come sarà però tradotto occhio croce è un un tempo bello per vivere sembra assurdo in questa questa situazione però il titolo che è difficile abbiamo lottato ho lottato tanto tempo con la con la casa editrice per trovare il titolo perché dice che oggi è un tempo di per sé per il nostro bello per vivere o forse non bello non è il tempo giusto forse il più giusto un tempo buono per vivere eh sì meglio di quello che abbiamo vissuto il tempo indietro parlo poi chiaramente anche lì di perché oggi giorno si fa domanda se far figli in questa questa vita edificia con tutte le crisi che abbiamo davanti cerco di discuterne anche eh sul tema della inseminazione artificiale su tutta questa problematica qui però anche cosa possiamo imparare dai bambini però anche cosa possono che chance hanno nonostante le crisi questa è la nostra gioventù e chiaramente sono diverse tema però racconto anche storie tra questi temi un po' come qui sì speriamo che venga tradotto presto in italiano e magari di ritrovarci qui ah sì sarebbe bello presto sì